Eccoci qui, tornati, eccocivi tornati, tornate, punto interrogativo, benvenuti in un nuovo video. Allora, non so se vi siete accorti, ma ho aperto un canale in inglese, si chiama Depri English, ed è questo qui, questo lochino qui. Iscrivetevi ragazzi, perché lì verranno pubblicati i video solo ed esclusivamente in inglese, ovviamente Depri English, grazie al... Comunque, il video di oggi parla di 5 film sui hacker, no? Quante volte abbiamo sentito parlare di cyber security, attacchi informatici, hacker, anonymous, tutto messo insieme in questo calderone della sicurezza, ma che parlano ovviamente di cose ben distinte e ben diverse, è chiaro che chi non maneggia queste cose nello specifico, tende a raggruppare tutte queste cose in un unico insieme, quindi poi si crea molta confusione e disinformazione. Ora, bando alle ciance, possiamo incominciare questa top 5 con il numero 5, ovviamente, The Italian Job. Un film che è un remake, un film del 2003, io sto parlando del remake, ma più o meno la trama è sempre quella, perché alla fine un remake è un qualcosa di già fatto, viene solo ricopiato, cambiando leggermente qualcosa, ma questa è la definizione. E in questo film noi abbiamo una realtà totalmente diversa dalla nostra, dove ti pone nella posizione dove te ti vai a chiedere cosa succederebbe se i semafori e tutte quelle cose legate alla vita quotidiana, alla strada, tutta questa roba qui, fosse sotto il controllo dell'informatica. E questo film te lo fa vedere dove abbiamo il protagonista della banda, che per far scappare tutto il resto della banda, prende il controllo appunto di questi semafori, li fa suoi e grazie a questo riesce a far scappare i suoi amici. Una cosa anche qui abbastanza basilare, che però, se i semafori fossero connessi a una rete internet, chi è molto bravo a maneggiare internet potrebbe trovarsi in una situazione di vantaggio per il controllo dei suddetti semafori. Ora, scusate se parlo come una guida o qualcosa, però non lo so, sono abbastanza preso quando si parla di queste cose, perché sono interessanti, sono fighe. Purtroppo non ho tutto quel tempo da passarci per diventare veramente una personabile nell'informatica, ecco, mi piacerebbe, chissà in un futuro, vedremo, ma nel mentre concentriamoci sulla posizione numero 4 con Wargames, un film del 1983, pensate voi, un film abbastanza vecchio. Siamo all'incirca negli anni 80, quando ancora informatica si c'era, ma insomma era ancora inizio, avevamo i monitor che erano delle cassettone allucinanti e questo ragazzo nel film gioca inconsapevolmente una partita contro un'intelligenza artificiale che poi questa partita rischia di diventare reale, rischia di scatenare la terza guerra mondiale. Fortunatamente per il film questo non succede. Posizione numero 3 per Black Hat. Allora, allora io ho visto questo film come ho visto gli altri due e gli altri due non ve la dà a dire. Questo film però è troppo lungo, due ore e mezzo di durata è eccessiva, eccessiva ragazzi, davvero. Però è un film carino, posso dire che è un film che rispecchia i giorni nostri, rispecchia la realtà di come la cyber sicurezza possa andare a compromettere la politica mondiale, ed è vero. In questo film Chris Hemsworth è il protagonista, lui è in prigione ed è un hacker, anche lui è bravissimo col computer, cyber sicurezza, dove è di là. Viene fatto uscire perché deve sventare un piano malefico di questo gruppo criminale di hacker, possiamo dire, senza scrupoli, ecco. È un film carino che si conclude anche bene, come ho già detto è troppo lungo. Poi vabbè, a me Chris Hemsworth non fa impazzire perché oltre a Thor io non so come collocarlo attraverso i film. Secondo me è un po' come The Rock, The Rock non è un personaggio, non riuscita mai, fa la parte di se stesso. E effettivamente anche Chris fa lo stesso, perché se noi guardiamo Thor fa la parte un po' del cazzone ma del duro. In questa parte qui fa la parte del cazzone ma colui anche che sa maneggiare i computer. Poi abbiamo Man in Black dove fa la parte del cazzone, però è pur sempre un Man in Black. Eccora, questa cosa del cazzone io credo faccia parte del suo carattere. Quindi lui sente a quanto pare il bisogno di inserirle in ogni potuto film a cui piglia parte. Persona numero due con Independence Day, 1996 signori miei. Il film è un film di fantascienza, veramente fantascienza, dove abbiamo una situazione dove la Terra sta per essere invasa dagli alieni. Un'invasione aliena che va quasi a buon fine ma viene stoppata perché? Perché qui abbiamo l'idea brillante di mandare un virus a questi alieni, di entrare nella loro nave spaziale attraverso l'informatica, inserire un virus là dentro e mandare tutto a puttane. E questa essenzialmente è la trama del film. Sì, gli alieni che stanno per arrivare, uno scienziato che si mette in contatto con loro attraverso la comunicazione e poi gli butta il virus, schiaffetela e se ne vanno tutti. È la prima volta dove un virus salva l'umanità. Effettivamente questo film è una piccola parentesi di quello che fa un virus. Posizione numero uno ovviamente per il film più hackeroso di tutti quelli che ho citato prima di questo, ovvero Matrix, un film del 1999, un film dove abbiamo come protagonista Canyon Reeves, nelle parti di Mio, e ovviamente questo film è basato sul concetto di realtà, cioè quello che noi viviamo, percepiamo, è veramente reale, oppure è un mondo creato per noi, per non farci vivere veramente la realtà di cui facciamo parte. Un grandissimo punto interrogativo che trova spiegazioni in questa pellicola molto affiato, che poi ha dato via alla saga conclusasi con Matrix Revolution, che sarebbe il Matrix l'ultimo, il 4, uscito credo l'anno scorso, nel 2022, 2021, insomma, in questi ultimi anni. Ebbè, ebbè, quindi ragazzi, io cosa vi devo dire ancora su The Matrix? Se non è questo il film dei hacker per eccellenza, non so cosa dirvi ragazzi. E direi con questa prima posizione possiamo chiudere questo video, dai. Io spero che questo video l'ha trovato interessante, magari se non sa cosa guardare, se ti garba il genere, ma non sapevi mai che film vedere, questo è un video perfetto per te. E noi ci vediamo alla prossima, non prima, non prima di dire ragazzi la nostra famosa frase, la nostra catchphrase del canale, quella che sarà stampata anche nelle magliette, se volete ordinare scrivetemi su Instagram, oppure anche sotto il video, e dovete preparare una magliette, quello che vi pare, vuole come una bestemmia, punge come una serica, alla prossima, ciao!